Ciao, abbiamo deciso di fare un contest a premi. Un contest che vi permetterà di vincere alcuni oggetti della nostra collezione, naturalmente Surplus. La prima azione è iscrivervi al nostro canale di YouTube. Ciao, io sono Pierpaolo Venturi della collezione storica Quadri Venturi. La collezione è formata da me e da mia moglie che si chiama Quadri Gabriella. Abbiamo la passione di fare ricerca storica e collezionismo. Abbiamo deciso di fare un contest a premi, una piccola lotteria, per fare in modo di far conoscere anche alle persone che ancora non ci seguono il nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Partecipare al contest è molto facile, ma lo spiegheremo a fine video, in modo tale che non vi scordiate come. Intanto faccio vedere i tre premi. Partiamo dal terzo premio. Il terzo premio è tre penne della collezione storica Quadri Venturi, naturalmente con il logo e serigrafato il sito in cui potrete seguirci. Il secondo premio viene direttamente dalla nostra collezione. È un Surplus e sono sette monete di epoca storica che vanno dal 1800, l'unica, che è una moneta italiana umbertina, a Vittorio Emanuele, massima epoca anni 40, perché la nostra ricerca va dal 1900 al 1945, cioè prima e seconda guerra mondiale. Il primo premio è un oggetto perfettamente funzionante della campagna d'Italia dell'esercito americano, si chiama Quadrant Gunner. Serviva per collimare il tiro dei cannoni. Aveva naturalmente varie funzioni e una bolla di livellamento. E anche questo oggetto verrà spedito gratuitamente al primo qualificato. Partecipare è molto semplice. Finito questo video, guardate il prossimo, che sarà indicato da me. È un video che riguarda il restauro di un oggetto della seconda guerra mondiale tedesco. Visto il video, sotto mettete speriamo un mi piace. Attivate la campanellina, che vuol dire che nei prossimi video che faremo sarete avvisati. E mettete un commento. Nel commento è molto importante che indicate il nome che voi avete su Facebook. Faccio un esempio. Molto bello il restauro. Su Facebook sono Rossi Mario. Messo il nome di Facebook, il 3 di maggio, data abbastanza conosciuta in questo periodo, faremo l'estrazione. L'estrazione viene fatta tramite un apposito programma casuale, che io filmerò. I primi tre partecipanti di questa estrazione vinceranno i premi che prima avete visto. La prima azione è iscrivervi al nostro canale di YouTube. Altro da dire non c'è. Seguiteci su Facebook, sul canale YouTube e guardate questo video. Esattamente questo. E poi partecipate. Ciao e grazie. Grazie a tutti.